Ragazzi volete provare un nuovo gioco? L'altro giorno ho scoperto Hellsworld È un free to play che è un po' a cartone Però è carino, mi sono messo l'altro giorno a giocare E ho detto vabbè proviamo a consigliarglielo Vi lascio in descrizione il link per registrarvi Ci vuole un attimo, poi dovete solamente scaricare il gioco Provatelo e fatemi sapere com'è Buona visione Bene ragazzi, questa è M e bentornati in questo nuovo video vlog sul secondo canale Apriremo i pacchi e risponderemo alle vostre domande su Twitch TV Guardate qua quanti siete, siamo 2000 persone in live ragazzi Se volete partecipare alle streaming seguite la pagina Facebook Perché è lì che vi dirò cosa ci sono E il link è qua sotto nella descrizione, ok? Allora faremo così, leggeremo due domande che troverò qua al mio fianco E apriremo una busta, ok? Quindi saranno circa una decina di domande E circa 5 o 6 buste, va bene? Siete pronti? Allora iniziamo subito Paolo mi chiede Farai mai il green screen? Allora io il green screen ce l'ho Ce l'ho, il problema è che È troppo grande Non riesco a sistemarlo perché devo comprare tipo Un'asta Un'asta bella grossa che lo tiene fermo dietro di me Questo per fare cosa? Questo per rendere, in poche parole, lo sfondo dietro di noi invisibile Così noi possiamo mettere solo la nostra faccia su questo sfondo Non so se avete ben capito Però in poche parole È come se adesso vedeste solo me la sedia E dietro non ci fosse l'armadio Ma ci fosse uno sfondo casuale Che ne so, le Bahamas Una cosa del genere Avete, più o meno avete capito, no? Perché tramite un'impostazione cosa si fa? Si rimuove Il verde Cioè quindi non bisogna indossare roba verde Se no si vede malissimo dopo E bisogna avere un buon effetto di luce davanti Cioè che non ti creino ombre dietro Se no viene una stronzata, ok? Sì esattamente Come ho fatto anche nel trailer su YouTube Dove non è venuto benissimo Perché appunto non avevo le luce Non avevo le luce purtroppo Quindi È andata male È andata male Mi chiedono Hai mai fatto una stronzata? A volte ragazzi Ne ho fatte tante Dipende anche a che livello Si dicono Cioè Che cosa intendete poi per stronzata Dipende anche da quello Magari non sto a raccontarvene Una in particolare Fatemi pensare Potrei Raccontarvi di quando A Roma Per il primo anno Che sono venuto dal Romics Sono montato sul treno sbagliato E sono arrivato in ritardo Sono arrivato Dovevo arrivare la mattina Sono arrivato praticamente il pomeriggio Perché il treno ci ha portati A Fiumicino Invece di fermarci alla fiera E Sul treno abbiamo incontrato Il controllore Che ci fa Voi biglietto E noi Guardate si è sbagliato treno E lui Non ci credo Che avete sbagliato treno Abbiamo sbagliato treno Abbiamo sbagliato treno Insomma Alla fine non ci ha creduto Ci ha fatto una multa Multa che però Non è mai arrivata a casa Quindi On to call E niente Questa è una stronzata Avevi sbagliato treno Quindi non è se stai abbastanza attento Da prendere il treno Giusto Bene Iniziamo dalla prima lettera Ce la invia Andrea Non so se l'ho già aperta Perché l'ho trovata aperta Però a volte la mia ragazza Apre le buste Quindi Vorrei fosse stata lei Probabilmente si Premo la lettera Allora c'è una lettera Il disegno La lettera ovviamente la leggo io Il disegno Lo vediamo tutti assieme Mamma mia Mamma mia Ne avevo già visto uno simile Però non è che è lo stesso Comunque è fighissimo Soprattutto lui Soprattutto il boss Aiuto Aiuto perché ci sono io E massacro tutti Step versus food E il creepa Stepney è sempre più forte Lo dice il creeper Non mi torna Questa non mi torna Ragazzi Non mi torna Zeno 9098 89 mi chiede Miglior gioco per pc Allora ti dirò Per pc Io ho sempre trovato Tanti giochi Che mi piacevano Tanti ma tanti Tanti Primo di tutti Uno che mi prese veramente Tantissimo World of Non world of Warcraft Warcraft normale Quello dove costruivi La tua base Con gli orchi Con gli elfi Ammazzavigliati C'erano i non morti Dove di crearti la tua struttura Le caserme Queste cose qua Far le unità E andare a ammazzare gli altri Un gioco simile a questo Era se non sbaglio Aspettate mi viene il nome Imperium E le guerre puniche Dove potevi montare Sugli elefanti Qualcosa di assurdo Troppo bello Cioè montavi sugli elefanti Fantastico Troppo bello E poi vabbè Starcraft Anche quello è un gioco Tipo questo Di strategia Poi vabbè Minecraft mi piace molto Anche se non è il gioco Cioè molti lo disprezzano Perché Per la grafia Eccetera Però l'idea è geniale Se ci pensate Cioè Quando l'hanno creato Tutti hanno iniziato a giocarci Perché l'idea era Era ganza Sopravvivere in un mondo Che potevi modificare A tuo piacimento Che poi Vengono anche create Mappe assurde Su Minecraft Nonostante sia Un gioco Insomma Non tanto di qualità grafica E quanto di qualità Intellettuale Dai Diciamo così Anche se molto basilare Su alcune cose Ma molto interessante Anche su altri aspetti Sì Altri giochi per il computer Mi piace League of Legends Diablo Mi piaceva tantissimo Più o meno Questi qua Questi qua Farai il DLC Di The Last of Us Ragazzi Sì Lo faremo Vi faccio vedere anche Cosa ho comprato Guardate un po' Guardate un po' Ho comprato Beyond Sono andato a comprare Ieri l'altro Beyond Quindi Finiamo Murdered South Suspect Facciamo il DLC E poi inizieremo Questo Probabilmente In parallelo Alla serie Sul Signore degli Anelli Perché lo voglio fare Assolutamente Ho visto dei trailer La baba La baba Ganga Troppo bella Troppo bella Devo farlo per forza Devo farlo per forza Bene Allora Prossima busta Questa è chiusa Ce la invia Walter Sembrerebbe Walter Con Il coso del papa Guardate Che carino il papa Allora Apriamo la busta Se ci riesco Se ci riesco Oh cavolo Comunque se non trovate Le vostre buste In questi video Probabilmente Sono finite Sul primo canale Altrimenti Sono state smarrite Dalle coste italiane Perché io le apro Sempre tutte ragazzi Cioè Cerco di aprire sempre tutte Anche se adesso Ce l'ho un casino Da parte Allora Mi sa che è solo una lettera Ok È solamente una lettera Quindi Walter Di Palermo Io ti ringrazio Me la leggerò Da parte mia Fatemi vedere Se c'è anche un disegno Da dentro No È solamente una lettera Walter Grazie mille Vedrò Di la genera Nel mio privato Ok Così rimane Tra me e me Farai una serie Su Payday 2 Mi chiede Dark Tiger Allora Non lo so Ti dico Non lo so Perché Allora Payday 2 È un gioco Che dovevo scaricare E comprare Con dei miei amici Però Poi c'è stato un periodo In cui veramente Non avevo Né tempo Né tantissima voglia Di giocare E quindi Ero ringambata Ora Payday 2 È un gioco Di cooperazione Quindi dovrei farlo Di nuovo con loro Non so se tornerebbero A farlo O mi spaccherebbero Le gambe Non lo so Probabilmente Mi spaccano le gambe Farai il DLC Di Outlast Quando uscirà? Allora Partiamo dal fatto Che ancora Devo finirlo Outlast Quindi Prima pensiamo A finire Outlast E dopo faremo il DLC Magari dopo C'è anche Whist Blower Whist Blower Un altro DLC È pieno di DLC Farei Advanced Warfare Sì Lo faremo Ragazzi Faremo Advanced Warfare Bene Another boost Another boost Ce la invia Alessio Da Mossumano Terme Ok Questa è bella grossa Sembra anche un pochino pesante Non so cosa c'è All'interno Ho visto io Allora Fermi tutti C'è Intanto Cos'è? Cos'è? È un cane O è una mucca? Qualcuno mi spieghi Se è un cane O una mucca Scrivetelo Perché non lo so E poi abbiamo Un braccialettino Questo è bellino Questo non lo metto subito Vada Messo subito Poi ci sono 600.000 fogli Allora Fermi Cos'è? Allora La carta di Stefani E la carta di Marina La carta di Marina Dice Effetto Sollevola Sollevale Il morà Sollevare Riesco a leggere Ok È perché Non è scritto benissimo Lo ammetto Sollevare il morale Di Stepni A effetto Solo se Stepni È in campo Sepri Far divertire ogni giorno 130.000 persone Attacco Quasi mille video Difesa Più di un milione Di click Sulla pagina Che grande Che grande Ah queste sono bellissime Poi Ci sono 642 disegni Ah aspetta Ma cos'è? Ma cos'è che è caduto qua? Cos'è un lama? Questo è un lama ragazzi Oh mio dio E questo è un lupo No questo è un lupo Che ulula Al cielo Ora Ora mi spiegate Che cos'è questo E come si posiziona Soprattutto Ah queste sembrano Zampe Ma non può essere Due zampe Un mostriciato Non lo so No allora Ragazzi Mi sono spaventato Cioè questo è il disegno Guardate quanto Sono brutto qua Guardate Cioè Insomma Non è che sono tanto bellino Qui eh C'è una faccia un po' strana Comunque no A parte gli scherzi Grazie mille per il disegno C'è anche qualcos'altro Qua dietro Cos'è? Tipo Una lepre Ogni giorno Un nuovo video C'è questo oso attaccato Vabbè Questo è il disegno Per intero Ancora non ho letto Che ci invia Sì ce l'ho letto Che ce lo invia Poi è inviato la foto Del suo gatto Guardate quanto è bellino Quanto è buffo E qui C'è la nostra casa Di minecraft I creeper si inginocchiano Di fronte a steppri Ci sono tutti gli animalacci Qua sopra Dolly Groom No no Dolly jeb E la peora Guardate qua sotto C'è il maiale Dov'è? Qui Questo cos'è? Cos'è? Non uccidemi di prego Sono fottutamente puccioso Poi c'è Porche Pig Che è un cane Non si sa perché Va bene Allora grazie mille Ora ti dico Mi ricordo il tuo nome Aspetta Mi sembrava tutti Che chiamassi Esatto Alessio Grazie mille Alessio Per questa cosa Soprattutto per le due Action figures Le due figurine Grazie davvero La lettera me la leggo da solo Ok Oddio che pazzo Farai un rotto di DG1 Allora ragazzi Probabilmente lo faremo Faremo una cosa del genere Anche se Ho provato a giocare E tipo Ho perso sei partite Con un mio amico E altre sei online Cioè Il disastro più totale Perché è difficile questo FIFA Veramente più difficile E l'altro Quindi Boh Io spero che mi vada tutto bene Spero di farlo Faremo qualcosa interessante Non potremo però fare Waker Match E Pink Sleep Come ho visto che avete scritto Perché hanno tolto gli scambi Quegli assassini Hanno tolto gli scambi Non è colpa mia Mi dispiace ragazzi Però non è colpa mia L'ho fatto apposta Hanno tolto gli scambi Su me lo so È un'inculata È un'inculata Farai Heavy Rain Per PlayStation 3 Allora ragazzi Heavy Rain È decisamente vecchio Però mi hanno detto tutti Che questo Beyond È sia Dai creatori di Heavy Rain Guarda Qui c'è scritto Dai creatori di Heavy Rain Intanto È molto simile Nella struttura del gioco A Heavy Rain Quindi Magari se piace questo Potremmo anche fare Heavy Rain Perché no? Perché no? Io spero di farlo Cioè se a voi va bene Lo facciamo volentieri Non è un problema Ok quindi Questa risposta Farei un altro episodio Su Destiny Sicuramente faremo ancora Destiny Ora è uscito adesso Fatemi arrivare A massimo livello Sì posso anche fare Il competitive E massacrare Tutti Ok Next one Allora Marco Lecca Marco Lecca Lecca Marco Lecca Lecca Marco Lecca Ok Apriamo La busta di Marco Ehi Un bel disegno La lettera è scritta dietro Step Per aver fatto questa cosa Ho spiegato un sacco di nastro E l'unica uscita bene Se mi fate lo scopro Sono capoli amari Ma ne è balsa la pena Mi ha messo questa giuggino qua Guardate Che pazzo Ho spiegato un monte di robe Disegno con Tutti i personaggi di Minecraft Anzi Solamente Minecraft 120.000 iscritti Ormai siamo a 130.000 Però Questo è il disegno Perdonami la scrittura Ma sono tre mesi E non scrivo Ehi Le vacanze Uccidono tutti ragazzi Mi rendo conto Grazie mille Marco Complimenti per il disegno Che è abbastanza bellino E Che ho sbagliato Cosa ho fatto Fermi tutti Ok Ok Così va bene Non è vero che lagga Sto guardando anche io La streaming ragazzi Non lagga Ho appena venduto Royce A 110.000 Che coglione Quello se l'hai comprato Sei sicuro Guarda che Royce Secondo me vale Molto ma molto di più Non sto scherzando Uno ha scritto Stephanie sei contento Che in Inghilterra Abbiamo dato il tuo nome A una via Mi dice questo Mi dice questo Perché questo ragazzo Mi ha inviato Per messaggio privato Vi faccio vedere Questa cosa qua Che mi sono salvato Ovviamente Stephanie Avenue Cioè è bellissimo Se io vado in Inghilterra E trovo questa via Io sbavo Stephanie Avenue La via di Stephanie Ovviamente non è per me Non è il mio nome Cioè ci mancherebbe solo altro Però insomma È abbastanza soddisfacente Quindi grazie mille Per avermi inviato E segnalato questa cosa È molto ma molto bellina E ti ringrazio Quindi Ultimo pacco di oggi E ce lo invia Lorenzo Lorenzo da Roma Ciao Lorenzo Allora apriamo Questo pacco Hello Ok A vedere un po' Oh cavolo Allora c'è Oh è bellissimo Sto coso Cioè ha fatto un ritratto Della mia immagine Profilo su Facebook Ed è identico È identico È identico Alla foto Io vi giuro che Oh mio dio È fantastico Questa sarà Una delle prime cose Che appenderò in camera Grazie mille Lorenzo C'è anche la lettera Che leggerò però Dopo Ok Quindi Lorenzo Grazie mille davvero Comunque Non ho più niente a leggere Vi dico l'ultima cosa Allora ragazzi Tra poco ci sarà il romics Però io il sabato E la domenica Non potrò Parteciparmi Probabilmente Il che è una cosa Decisamente brutta Cercherò in tutti i modi Visto che inizia da venerdì Visto che inizia da venerdì Se non sbaglio A partecipare dal venerdì Fino al sabato mattina Ok ci proverò Perché poi il sabato pomeriggio Non ci sarò Lo vedrete sul primo canale Oggi uscirà un video Quindi mi raccomando Non perdetevi Io ragazzi vi ringrazio Se volete seguire questo video Sul secondo canale O brutto in live Meglio Vi invito a seguire Le prossime live Se volete partecipare A fare domande Noi ci vediamo Nel prossimo giorno Nel prossimo video Da sempre è tutto Pau